1-0 il risultato finale al campo San Marco di Pescara. La Delfino Flacco Porto torna a vincere ai danni di un'acqua e sapone che non riesce più a ritrovarsi. I primi minuti di gioco non sono molto entusiasmanti, ma è la squadra verde-oro a fare la partita. Infatti al quarto d'ora, Trento dal limite tenta una conclusione che si spegne sul fondo. Dieci minuti dopo, calcio d'angolo per la scuola di Del Gallo che prova uno schema, ma Marrone spara sopra la traversa. Al minuto 37 arriva la prima ghiotta occasione per i padroni di casa con un colpo di testa che colpisce il palo e la ribattuta di un compagno biancazzurro che finisce tra le mani del portiere Palena. Inoltre la formazione biancazzurra continua ad attaccare, palla in area per Alberico che prova una conclusione col sinistra in crociare ma la palla non colpisce la porta. Nel secondo tempo la partita si accende, tanto che al quarto minuto del secondo tempo la formazione di casa riesce a passare in vantaggio con il numero 27 Marzucco dopo una super cavalcata del numero 7 Tine Mori. Riesce a servire il compagno che inzacca alla sinistra del portiere Palena. Dieci minuti dopo continua ad attaccare la squadra di coach del Gallo ancora una volta Appetito che però spara sopra la traversa tra un'azione e l'altra la Quasapone continua ad attaccare senza trovare il gol. Infine negli ultimi minuti, cinque minuti prima dell'inizio del recupero una occasione per Majorani da una distanza molto lunga che però non riesce a impenserire il portiere falso. Finisce così quindi la partita del campo San Marco di Pescara Delfino, Flacco Porto 1, Acquasapone Montesilvano 0. Ma è una vittoria fondamentale perché nelle ultime cinque partite abbiamo raccolto solo un punto, a mio parere immeritatamente e come ho sempre detto con un organico molto falcidiato agli infortuni. oggi è bastato recuperare anche il solo Alessio Alberico che pur essendo un 99 che deve fare tanta strada almeno come ruolo lì davanti abbiamo potuto schierare un attaccante un punto di riferimento e avere più profondità per fare anche delle azioni seppur di ripartenza in molti casi perché lo stesso Ligoschi era fuori quindi in questo momento abbiamo delle defizioni importanti che ci costringono a giocare in una certa maniera e quindi sono contentissimo perché eravamo veramente incerottati al cospetto di una squadra altrettanto magari in difficoltà sotto il profilo della classifica che però ha venduto cara la pelle come sapevamo che sarebbe stato. Infatti Alberico ha ricoperto molto bene l'assenza di Ligoschi muovendosi sempre molto in attacco ma era prevista questo risultato durante la settimana o diciamo avevate prefissato in un altro modo la partita durante la settimana? No, no, noi volevamo fare una partita di sostanza e soprattutto in linea con le nostre caratteristiche di quei giocatori in questo momento a disposizione. Allora, coach Del Gallo purtroppo una sconfitta abbastanza pesante per quanto riguarda la classifica adesso vi allontanate dalla Delfino per 4 punti quanto può incidere sull'aspetto psicologico dei giocatori? Ma è una sconfitta pesante perché è uno scontro diretto ovviamente non siamo riusciti a fare quello che volevamo fare e la Delfino Flaccoporta ha trovato questo gol a inizio secondo tempo che ci ha penalizzato oltremuolo perché si sono difesi bene hanno fatto un po' di ostruzionismo però la squadra non ha fatto secondo me quello che doveva fare dobbiamo ripartire da prestazioni migliori che abbiamo già fatto cercando domenica di trovare questa vittoria.